Ciao Mattia, non certamente il primo match su questo palco per te, non per ultimo ricordiamo il titolo europeo appunto appena vinto durante l'ultimo colosso olandese il 28 settembre. Quali sono le tue prime versioni di questo match? Mi sentivo un po' stanco perché avevo combattuto tre settimane fa, però alla fine ce l'ho messa tutta, ho pensato a vincere e ce l'ho fatta. Ok, com'era il tuo avversario? C'è stato qualche momento di difficoltà? Sinceramente non lo so perché è durato poco alla fine dell'incontro, non sono riuscito a sentire quanto magari era più bravo di me in piedi, solo che stasera mi sentivo di andare per terra e sono andato. In piedi era più bravo lui. Dove pensi di essere cresciuto maggiormente dalla prima volta che ti abbiamo visto combattere ad oggi e dove invece pensi di avere ancora strada da fare? Allora, sono cresciuto sicuramente nei pugni, strada da fare, cioè dappertutto che bisogna migliorare e sono cresciuto nei pugni grazie anche al lavoro fatto con altri ragazzi, anche di altre palestre di Pado, in particolare Francesco Cadiello e niente, spero di migliorare ancora. Bene, ti ringrazio e alla prossima volta. Aspetta, devo salutare che c'è la famiglia Schiavo Lilla, devo salutare quella brutta gente là. Grazie a tutti. Bene, alla prossima.